Noi abbiamo voluto legarci anche idealmente a quello che è il tema del meeting. Sostanzialmente il meeting ci fa riflettere sul fatto che ciò che abbiamo ereditato dal passato oggi va riguadagnato. Quest'anno allo stand, partendo da quello che è il titolo del meeting, che quindi guarda il futuro, guarda l'eredità, abbiamo voluto dare alle persone la possibilità di vivere un'esperienza multimediale, un quiz. Sapere come costruire il futuro è una bella domandona. Si costruisce col presente. La direzione comunque è sempre avanti. Tra i anni consecutivi che siamo qua abbiamo voluto portare un'esperienza di incontro con i visitatori sul tema in ascolto della bellezza Unipossai, che è il driver di comunicazione con cui siamo culturalmente nel meeting, l'arena Spettacolo Unipossai. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS